Il prossimo è di Alfredo Barattoni e di Fiori di Pesco, una polca, arrangiata da noi più grandi arrangiatori per settimilo da te. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Il prossimo è di Fiori di Pesco Il prossimo è di Fiori di Pesco Il prossimo è di Fiori di Pesco Il prossimo è di Fiori di Pesco